Anche Simone Cadori all'inaugurazione del Fortuna Beach di Gabriele Raimondi, un saluto in bocca al lupo a un amico di tante battaglie per questa nuova esperienza. Sono qui principalmente per lui, conosco tutti gli altri soci, quindi è un piacere venire qua perché hanno fatto un grandissimo locale, sono contento perché mancava una cosa del genere. Per Gabriele sicuramente sono contentissimo perché, come ho sempre detto di essere un grandissimo giocatore, è un grandissimo uomo, quindi veramente mi fa piacere che abbia realizzato un sogno anche in altri ambiti. Senti Simone, so che segui il Pisa, purtroppo non è un momento positivo, la squadra dopo la crisi societaria purtroppo è arrivata in una fase particolarmente negativa, penultima, sette giornate dalla fine. Secondo te può uscirne e come? Ma può uscirne senza trovare gli alibi, perché purtroppo quest'anno gli alibi ce ne sono stati abbastanza e ai calciatori gli alibi purtroppo tornano sempre comodo, tra virgolette. Quindi di alibi ce ne sono perché ci sono punti di realizzazione, non parliamo nemmeno di quello che è successo. Il Pisa si deve mettere da qui in avanti in testa che è qui in Serie B e deve rimanere in Serie B. Quindi la cosa importante è che si tolgano tutti quei risultati o quella negatività che è venuta fuori negli ultimi tempi e discordarsi tutto quello che c'è stato. Il Pisa deve mantenere la categoria e secondo me c'è le possibilità per farlo, sia per i punti di realizzazione delle altre squadre, anche che verranno. Vedi l'avellino, non è che si spera, però se così deve essere legalmente sicuramente saranno lì a livello del Pisa. È vero che i punti purtroppo quando li conquisti sul campo e ti vengono tolti è un peso veramente grande, però spero che questo peso e questo alibi sia già superato e si possa pensare tranquillamente a ritrovare quella grabbia, quella grinta che magari nell'ultima partita non si è vista. Io credo che la cosa più importante in questo momento, oltre che all'allenatore, siano i giocatori, perché credo che il mister possa fare tutto quello che vuole. Mancano poche partite purtroppo, non è che ne mancano tantissime. Molti giocatori saranno presi anche da cosa faranno il prossimo anno, si sa, non ho queste cose. Quindi è importante che i giocatori sappiano che sono in una piazza troppo importante come Pisa, quindi psicologicamente sicuramente Gattuso deve lavorare molto sui giocatori. Però anche i giocatori allo stesso modo devono capire che sono una piazza troppo importante per non metterci quella fame che serve per potersi salvare. C'è stato un pochino di impasse nelle ultime partite, si è creata tra punti di penalizzazione e altre vicende. Io spero che si possa superare e credo che si possa superare perché poi dopo i giocatori ci batteranno i denti se non danno l'anima qua a Pisa.